Ancora un colpo all'interno della scuola di Via Tricca, finita di nuovo nel mirino dei ladri, la stessa che lo scorso settembre subì il maxifurto di pc e tablet. In questo caso i ladri si sono accontentati di un bottino ben più misero, lasciandosi però alle spalle ingenti danni alla struttura. È successo nella notte tra giovedì e venerdì, la mara scoperta la mattina successiva, scassinati i distributori automatici di merendine per portare via, oltre ai soldi che contenevano, anche tutti gli snack e le bibite all'interno. Pare che l'allarme non sia scattato e anche questo sarà passato al baglio degli inquirenti che stanno portando avanti le indagini. Lo scorso settembre nella stessa scuola era stato messo a segno un colpo da 70.000 euro, con i ladri in fuga con un centinaio di tablet riacquistati grazie ad una gara di solidarietà. Dopo qualche settimana un'altra eruzione, andata però a vuoto. Adesso è il terzo ride, da qui la richiesta di video sorveglianza portata all'attenzione del comune di Arezzo per monitorare l'aria esterna della zona, evidentemente abbastanza vulnerabile.